Al centro dello studio Monsignor Fasfale Iacobone, buongiorno, ben trovato. Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra per continuare il nostro viaggio all'interno delle catacombe. Monsignor Iacobone, stamattina catacomba di Savinilla a Nepi. Prima di arrivarci facciamo un passo indietro e per chi si fosse collegato con noi facciamo anche un excursus sulle nuove catacombe che stiamo vedendo che non si trovano proprio a Roma. Sì, siamo nel Lazio Nord dove abbiamo delle direttrici importanti, la Cassia, in questo caso la via Merina, una importante via di collegamento fra Roma e Ravenna. Siamo appunto vicino alla terra degli apiloni. Facciamo la strada verso Serbia, diciamo. Sì, e su queste vie consolari, su queste vie antiche sorgevano dei centri importanti, Nepi era uno snodo strategico importantissimo. E quindi accanto alla comunità civile importante, una comunità cristiana ugualmente importante, che sin dai primi secoli ha la sua catacomba, il suo cimitero comunitario, dedicato, lo vedremo, a due santi, i patroni, Tolomeo e Romano. Esatto, perché noi l'abbiamo chiamata la catacomba di Santa Savinilla, ma in realtà tira in ballo, vengono tirati in ballo, poi successivamente due santi che sono particolarmente considerati a Nepi appunto. Sì, Savinilla è come sempre la matrona che offre il suo terreno perché la comunità cristiana possa insediare il suo cimitero e che ospita appunto i corpi di questi due santi di cui si sa storicamente molto poco, due vescovi martiri che vengono deposti in due tombe diverse a poca distanza l'una dall'altra e su cui si costruisce ben presto una prima chiesa. Una chiesa che poi però verrà distrutta per ragioni difensive e militari, facendo scoprire a metà del Cinquecento la catacomba con tutto quello che adesso vedremo. E allora, visto che siamo pronti, andiamo a scoprire la catacomba di Santa Savinilla a Nepi con Serena Cirillo. Siamo a Nepi, all'interno della chiesa di Santo Lomeo fuori le mura. Una chiesa dalla quale si accede alla catacomba di Santa Savinilla. Per quello che sappiamo, Savinilla era una facoltosa donna locale che mise a disposizione un terreno di sua proprietà per far spellire i corpi dei santi martiri, padroni di Nepi, Tolomeo il Romano e delle loro discepoli. Ci troviamo all'interno della galleria principale della catacomba, forse quella che colpisce di più per la sua monumentalità. In effetti qui l'altezza raggiunge i sei metri e abbiamo anche una larghezza che arriva nel punto di massima estensione a circa quattro metri. Quindi delle dimensioni inconsuete per una catacomba di un piccolo centro e che avvicinano la catacomba di Nepi a quelle più importanti di Roma o Napoli. Quello che vedete alle mie spalle è uno dei pochissimi affreschi conservati all'interno della catacomba. Si tratta di un affresco però successivo all'utilizzo della catacomba come cimitero. Risale infatti al XIV secolo. Questa tomba arcosolio è decorata con le figure di Giovanni e Giacomo Maggiore e sull'altro lato con quella del Cristo Pantocratore. È una sepoltura sicuramente che ha avuto un'importanza particolare per la comunità proprio per il fatto di essere l'unica a essere stata affrescata molto tempo dopo quando ormai si continuava a frequentare la catacomba solo a livello devozionale. Per quello che ne sappiamo la tradizione locale ha voluto identificare questo sepolcro con quello di San Romano. Uno dei due santi, appunto, martiri, padroni di Nevi, che fu seppellito qui nella catacomba. Stiamo esaminando la particolarità di questa catacomba che si trova appunto un po' distante. Noi siamo abituati, come diceva Antonella, a considerare le catacombe in ambito per lo più romano. Quella di Nevi non è l'unica perché ce ne sono altre che riguardano un contesto geografico un po' più ampio che va al di là della città stessa. Certo, abbiamo visto nelle puntate precedenti quella del Lazio Meridionale, Grottaferrata, Albano. Nel Lazio Settentrionale, oltre a Nepi, abbiamo Morlupo, abbiamo soprattutto Bolsena, che forse incontreremo, abbiamo Soriano Alcimino, Formello. Tante catacombe che seguivano appunto gli itinerari delle strade consolari, fondamentalmente un po' la Cassia, ma anche sull'Aurelia, forse una nuova scoperta di una nuova catacomba. Ecco, tante realtà che si affiancavano alla comunità civile, ai luoghi dove la città diventa a un certo punto anche comunità cristiana. In questo, Monsignor Iacobone, abbiamo capito che fondamentalmente dove c'era una via di passaggio, di transito, sorgevano delle comunità civili e di conseguenza comunità religiose che poi avevano lo sviluppo delle loro catacombe. La catacomba di Savinilla è tra l'altro considerato uno dei maggiori complessi funerari d'Italia centrale, proprio perché è monumentale. Sì, a parte anche la conformazione, come ci diceva Francocci, delle gallerie molto ampie, avete visto, ha una frequentazione lungo i secoli. Gli affreschi che abbiamo visto risalgono al XIV-XV secolo. Fra l'altro c'è anche la figura di San Giacomo con il bordone, uno dei simboli del pellegrinaggio. Quindi è una frequentazione che dura lungo i secoli, assicurata appunto dalla devozione ai patroni Tolomeo e Romano, e dunque un punto di riferimento obbligatorio per tutta la comunità cristiana, ma anche per il pellegrinaggio che si svolgeva lungo queste vie consolari. Veniva posto l'accento sulla rarità del fatto di trovare un affresco appunto in una catacomba. Come mai questa rarità, questa particolarità? Perché quella tomba affrescata doveva essere, secondo la tradizione, quella di San Romano. Quella di Tolomeo si trovava un po' più avanti, probabilmente sotto l'attuale chiesa, sotto l'altare della chiesa attualmente esistente, mentre quella era la tomba di San Romano, affrescata a fine 300, inizi di 400, probabilmente da qualche ecclesiastico del luogo, che riprende sia le figure di Giacomo e Giovanni degli Apostoli, ma anche una bellissima figura di Cristo, che ci rimanda al Cristo del Sancta Santorum, cioè al Cristo venerato qui a Roma, e che diventa un po' l'immagine prototipo che viene ripresa in tutto il Lazio e anche nelle regioni vicine. Noi ce ne andiamo un attimo in pubblicità, poi continueremo a viaggiare all'interno delle catacombe, ma non solo, l'abbiamo detto, vivremo insieme questo mese di maggio, un mese mariano che inizia proprio per noi oggi, quindi andiamo in pubblicità, ma rimanete con noi. Alle 7.47 stiamo viaggiando nei sotterranei del Lazio, in cerca di catacombe, lo stiamo facendo con Monsignor Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, siamo a Nepi, nelle catacombe di Nepi, che appunto prendono il nome di Savinì, la matrona nepesina, e abbiamo visto tramite le immagini anche un'immagine particolare, un'immagine di un Cristo all'interno di queste catacombe. Sono immagini, affreschi in questo caso, che ci riportano naturalmente alla mente altre immagini, poi particolarmente anche interessanti. Sì, come dicevo, la particolarità è che ci troviamo in una catacomba, ma con affreschi di fine 300, inizio 400. La particolarità è che qui viene ripresa la iconografia del Cristo, che era quella della cosiddetta cheropita, cioè l'icona non dipinta da mani d'uomo, il cuore del Sancta Santorum, della Cappella Papale di San Giovanni in Laterano. Quella icona che veniva apportata in processione, la vigilia di Ferragosto, e incontrava l'icona mariana, la Salus Populi Romani. Ebbene, questa icona diventa un prototipo di tante copie che vengono riprese soprattutto nel Lazio, nelle cattedrali del Lazio. E qui, al posto di un'icona, abbiamo invece una ripresa ad affresco. E questo è veramente interessante per il collegamento con Roma. Probabilmente un ecclesiastico di alto rango riprende l'icona del Laterano e la riproduce, la fa riprodurre lì su quella che era ritenuta la tomba del patrono San Romano. Signor Iacobone, se ho capito bene, ovviamente la catacomba data di molto tempo prima, nel Medioevo a un certo punto un ecclesiasta romano decide di andare lì e fare questo affresco, ho capito bene? Probabilmente un ecclesiastico locale o un vescovo del posto. Però nel Medioevo c'è questa... Sì, per cui c'è una continuità di frequentazione della catacomba dovuta proprio alla tomba dei patroni. Per cui la catacomba non viene obliterata, dimenticata come tante altre, ma rimane frequentata, rimane visitata proprio per la presenza della tomba che viene affrescata più volte, che viene decorata con le immagini diciamo più alla moda al momento. Ed è curioso come sottoterra si riescono a trovare delle immagini che riescono a parlare a varie contemporaneità rispetto a quando appunto vengono frequentate e rifrequentate le catacombe. Abbiamo visto con lei nel corso del tempo, Monsignor Iacobone, immagini mariane anche all'interno delle catacombe, immagini anche natalizie. Certo. E siamo appunto nel mese di maggio, nelle catacombe tante volte compare la figura della Vergine soprattutto nella scena della maternità o dell'adorazione dei magi. E ricordo che la più antica, la più celebre immagine mariana si trova proprio in una catacomba, quella di Priscilla, sulla via Salaria. È la prima immagine della Madonna con il bambino con accanto il profeta che indica in Cristo la stella che illumina il mondo, che illumina il cammino dell'uomo. Noi stiamo facendo con lei anche un viaggio, abbiamo detto che ci porta fuori Roma, se Santa Priscilla è qui a Roma in città, abbiamo detto che invece stiamo percorrendo quelle vie che portano un po' fuori Roma. Stamattina abbiamo iniziato la strada verso idealmente Ravenna, Cervia, perché tra poco torneremo al Festival degli Aquiloni. Se vogliamo provare ad anticipare invece dove potremmo recarci la prossima volta che lei verrà a trovare? Percorrendo la Francigena, ormai famosa, potremmo per esempio arrivare a Bolsena dove abbiamo la bellissima catacomba affiancata alla famosa Basilica di Santa Cristina, il luogo dove avvenne anche il miracolo eucaristico che dette luogo poi alla festa del Corpus Domini. Proprio lì, su quelle catacombe che conservano il sepolcro di Santa Cristina, avvenne questo evento così straordinario, per cui può essere la prossima tappa del nostro cammino. Allora, tutti voi che ci seguite, rimanete sintonizzati per scoprirla. Grazie intanto Monsignor Iacobone quest'oggi per averci fatto visitare le catacombe anepi. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie.